Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Lorenzo Gasparrini? Lorenzo Gasparrini è un filosofo femminista, un filosofo cioè che si impegna nel studio, nella ricerca, nella divulgazione, diciamo in generale, sulle questioni di genere, ma soprattutto in quelle rivolte agli uomini. Perché in quanto uomo credo sia questo più adatto, diciamo così, a me e soprattutto perché per altri generi e per altri orientamenti, per altri sessi, già è stato fatto un grandissimo lavoro. Mi sembra che sugli uomini ci sia ancora molto molto da lavorare. Ovviamente intendo uomini edero, cis, bianchi, occidentali, insomma quello che sono io sostanzialmente. Vorrei iniziare la nostra conversazione dall'inchiesta del New York Times sulla piattaforma di contenuti per adulti Pornhub. C'è un aspetto di questa vicenda che ha colpito in qualche modo la tua attenzione? Sì, che per quanto, come dire, l'analisi sia fatta comunque da un magazine, quindi insomma non è che uno si aspetta grandi livelli di profondità, eppure già questo basta per arrivare in Italia come qualcosa di dirompente, di mai letto, di mai visto. Quindi l'aspetto che mi ha interessato di più è stato vedere quanto per certi versi quella inchiesta sia sembrata nei suoi contenuti sorprendente, diciamo così, al pubblico italiano, quando in realtà per chi si occupa di queste questioni in realtà di sorprendente c'era molto poco. Era più un constatare, diciamo così, una situazione nota. Però anche questo in Italia sembra essere, sembra provenire da un altro pianeta, non so, sembra dire delle cose assurde. Purtroppo segna quanto ancora siamo indietro su certi argomenti, in certi studi, ma non, come dire, nella punta di diamante. Cioè c'è chi qua studia benissimo queste cose e lo fa davvero molto bene. Il problema è la diffusione pubblica, il racconto sociale di questi temi, di questi argomenti. Questo è ancora veramente a meno che a zero. Che rapporto abbiamo con il sesso in Italia? Da una parte sembra essere costantemente, lo so che c'è un doppio senso, ma che vuoi fare, sulla bocca di tutti e di tutte. Però in realtà si tratta innanzitutto di cose molto più chiacchierate che davvero esperite, che davvero fatte. E soprattutto si parla sempre solo di un modo di fare sesso. Quello etero, quello scontato, quello, diciamo così, del quale c'è più appunto saggezza popolare, che poi non è saggezza manco per niente. Si parla molto poco sia di quanti sessi si potrebbero fare, diciamo così, quanti modi diversi, e quanto ci siano importantissime differenze tra sesso, erotismo, seduzione. Cioè tutto un ambito che invece viene ristretto molto spesso a spendere questa parola, che poi, come dire, è semplicemente sottintesa e non si arriva mai a parlarne davvero. Per esempio, appunto, pur essendo, anche se sembra che sia l'argomento privilegiato di tante e tante persone, di personale, di intimo, ci si spende molto poco. E soprattutto gli uomini spendono molto poco. Parlano molto di più per luoghi comuni, per modi di dire, come dire, come semplicemente per darsi un riconoscimento reciproco, più che davvero parlare di quanto sono impegnati, presi, di quanto investono nella sessualità, di quanto sia davvero soddisfacente per loro o quanto no. Ma il sessismo inizia nel linguaggio, a tuo avviso? Se con linguaggio intendiamo non solo la parola, ma tutta l'espressione di noi, quindi anche i gesti, le abitudini, il modo di vestire, tutte le cose che sono comunque espressione di noi stessi e noi stesse, sicuramente comincia da lì. Cioè ci si rende molto più facilmente di conto di quanto lo si esprime che di quanto lo abbiamo ricevuto e lo abbiamo interiorizzato. Quindi io credo che sia opportuno cominciare a vedere innanzitutto il modo in cui noi facciamo, diciamo così, usiamo sessismo molto spesso, per poi cominciare a capire da dove viene, da dove è venuto, come l'ho imparato, perché, che senso ha. Come si possono contrastare gli stereotipi di genere? Beh, innanzitutto riconoscendoli, cioè sapendoli riconoscere, chiamando una cosa che ti accade, una cosa che usi appunto nel tuo linguaggio, nella tua espressione, questo è uno stereotipo di genere. Perché per molti e per molte invece si tratta, ah, è una battuta, è un modo di dire, ma è una cosa che non fa male a nessuno, no, non è vero che io ho queste formule di giudizio preconcette, invece è così. Quindi innanzitutto riconoscendoli, poi scoprendo che quella informazione che ci danno sulla realtà, perché i pregiudizi servono a quello, eh, ti danno informazioni sulla realtà, è o qualcosa che in realtà tu non hai mai davvero conosciuto, e quindi forse sarebbe il caso di chiederla, di esplorarla, di capirla, davvero, invece che di ragionare per pregiudizi, oppure, cosa che dà ancora più fastidio, è qualcosa di cui tu hai paura. Dovresti essere onesto verso te stesso, dovresti chiederti perché ti fa paura, e poi scopri che magari non ti deve far paura per niente. Cos'è la mascolinità tossica? E questa definizione ti convince? Dunque, la definizione mi convince soprattutto perché usa questo aggettivo tossico che io credo descrive molto bene come funziona questo tipo violento e scorretto di mascolinità. Come la sostanza tossica è in giro nell'ambiente, in tutte le cose che circondano la tua forma di vita, e tu ne assimili microscopiche quantità ogni giorno, facendo le cose normali, come succede con le sostanze tossiche, appunto, non te ne accorgi. La accumuli nel tuo corpo, e poi a un certo punto, come fanno le sostanze tossiche, quando si supera un certo valore di tolleranza, una certa soglia, questa comincia a scatenare i suoi effetti nocivi. Il problema è che, appunto, tu la assumi continuamente in piccole dosi, perciò non te ne accorgi di assumerla. E magari le persone che te lo fanno notare, tu non gli credi che le cose stanno così. Quando comincia a scatenare la sua azione, purtroppo questa è diversa da persona a persona. Come succede con le sostanze tossiche. Qualcuno la tolera di più, qualcuno la tolera di meno. A qualcuno fa venire, adesso faccio un paragone, una semplice elusione cutanea, qualcuno c'è il mal di testa tutto il giorno, qualcuno comincia a picchiare le persone che c'è intorno. La grossa difficoltà di avere a che fare con un prodotto culturale come la mascolinità tossica è non tanto il riuscire a definirla, ma il riuscire, diciamo così, a coglierla sul fatto. Perché se la manifestazione è più evidente, non so, la violenza, le botte, late speech, queste cose si capiscono, sono evidenti, si vedono abbastanza chiaramente, e comunque è difficile farle, come dire, associare la mascolinità tossica come loro causa, diventa molto più complicato spiegare che sono manifestazioni di questa stessa mascolinità, appunto certi micro comportamenti quotidiani, prendersi una responsabilità, come dire, dividere non in maniera giusta, ed equa e paritaria i compiti o le responsabilità, pensare che in quanto maschio sei quello deputato, non so, al ragionamento logico, alla lucidità e non all'emotività, tutti questi aspetti più difficili da cogliere, che però la costituiscono lo stesso. Quindi io credo che sia per ora uno strumento ancora utile questo concetto e questa definizione, ovviamente lo scopo è abbandonarlo il prima possibile, diciamo così, renderlo inutile, però credo che ancora sia qualcosa sul quale lavorare, insomma, con il quale lavorare. Il privilegio maschile in quali modi può danneggiare anche gli uomini? Innanzitutto non facendoli rendere conto della disparità in atto, perché uno degli aspetti del privilegio è appunto questo, che si costruisce intorno a te una comfort zone che non ti fa apparire privilegiato. Anzi, come succede a molti uomini, confessano di essere disgraziati, infelici, che gli va tutto male, fraintendendo completamente il concetto di privilegio sociale. Quello che si può fare di nuovo è sforzarci insieme di chiamare le cose con il loro nome, cioè accorgersi veramente che quella possibilità che hai in più, quell'occasione che ti è data, quel problema che non hai, quella difficoltà di vita che non ti tocca, si chiama privilegio. Non è sfortuna di quell'altro, o disgrazia che quell'altra sei andata a cercare. No, è privilegio tuo. Rivoltare questo punto di vista già servirebbe tantissimo, perché è importante chiamarlo così, perché chiamandolo in questo modo tu ti accorci che è un gradino che hai sotto i piedi, e non una buca nella quale cadono altri e altre. Spero che la metafora sia abbastanza chiara, insomma. È qualcosa che ti solleva appunto da una serie di problemi, da una serie di difficoltà, e non qualcosa che invece agli altri purtroppo capita per disgrazia di cui tu non hai colpa. Il lavoro verso la parità è quello di rimuovere certi ostacoli, ma pure per qualcuno scendere da questo gradino, come dire, ingiusto. Quando e come hai scoperto il femminismo, o i femminismi se preferisci? Studiavo all'università tutt'altri problemi, tutt'altri questioni in filosofia, nelle quali poi mi sono accorto che i femminismi hanno detto tantissimo. Quando ho provato a usarli per i miei studi, a portarli ai miei relatori, ai miei professori, che erano per me il riferimento dei miei studi, ho visto in loro un atteggiamento che non mi aspettavo, non solo di rifiuto, repulsione per questo tipo di studi, che magari negli argomenti ci poteva stare, cioè a me non mi piace stare studiosa, non credo quello che dice, questo ci sta. Ma ho avvertito proprio un rifiuto, un problema più grave, un vero e proprio atteggiamento politico, di ostracismo, verso questo tipo di studi. E quando mi venivano riferite obiezioni davvero assurde, tipo questa non è filosofia, queste sono cose di cui si devono occupare le donne, ho capito che c'era qualcosa di più grosso, non era soltanto una questione di polemica accademica, c'era dietro un problema sociale molto più grande, che se colpiva una persona come un ordinario di filosofia, che sta lì a parlare con me, beh, allora dovrebbe essere veramente qualcosa di grave. In quanto filosofo me ne sono voluto occupare, facendo io prima un certo percorso personale di conoscenza e di pratica, e poi cominciando a parlarne in giro, a scriverne. Puoi entrare un attimo nel dettaglio e spiegarci come si fa un percorso del genere? Allora, quando tu vedi persone, per me, di grande riferimento, che descrivono un mondo nel quale, appunto, tornando alla domanda che hai fatto prima, nel quale sei privilegiato, comincia a vedere, torna a te, ma dove stanno questi privilegi, ma davvero funzionano così? Fai un po' delle domande in giro e ti accorgi che sì, è così. Che, per esempio, le donne intorno a te, che ti sembrano felici e contente della loro vita, nascondono un'enormità di sofferenze, un'enormità di paure, un'enormità di esperienze bruttissime, nascoste e non raccontate, perché è in azione quella cosa che si chiama patriarcato, della quale tu finora non ti eri affatto accorto e che invece c'è. Così come ti accorgi che tanti tuoi amici, tante tue amiche, sopportano certi tuoi modi di dire, certe espressioni, certe parolacce, che nascondono una profonda violenza e che tu usi tranquillamente senza rendertene conto. A me tutte queste cose che succedono senza io me ne renda conto mi fanno, come dire, mi disturbano parecchio, perché io vorrei invece rendermi molto conto di quello che mi succede. Quando scopri, come ho scoperto io, quante forze ti hanno condizionato, ti hanno determinato, in scelte che riguardano la tua identità personale, capisci che no, su queste cose bisogna lavorare. Allora cominci per esempio appunto col modificare il tuo linguaggio, cercando di eliminare da tutte le tue espressioni i sessismi e scopri non solo quante sono e quanto è pieno di sessismi il mondo dell'espressione, ma scopri che senza diventi più sensibile, vedi letteralmente un altro mondo, perché cominci a percepire l'azione di alcune forze sociali che prima ignoravi del tutto. Forze sociali che colpiscono anche te e questa è la cosa in cui ti rendi conto appunto, quanto sei stato in realtà pesantemente condizionato in quelle che pensavi essere scelte libere o naturali del tuo essere maschio e non erano per niente libere e non erano per niente naturali. Questo è il percorso che ho cominciato e che ovviamente continua, e mica è finito, non è che non si arriva con la patente a un certo punto, c'hai il permesso di... hai arrivato a un traguardo insomma. E continua perché questo mondo continua, questa cultura nella quale sei immerso, continua a volerti condizionare. Quindi è un lavoro abbastanza incessante nei confronti di se stesso e che poi cominci ad avere voglia di fare nelle persone intorno a te, che vedi anche loro condizionate come te, ma non se ne rendono conto. Un uomo femminista come te, come viene visto da alcuni femminismi? Ovviamente molto, molto male e sinceramente non mi sento neanche di dargli troppo torto. Non possiamo nasconderci qual è stata la storia di tanti femminismi, di tanti movimenti femminili, e perciò capisco benissimo che definirmi in questo modo, presentarmi in un certo modo, possa dare molto fastidio. E ripeto, ci sta. Poi io spero che nei fatti quello che succede, quello che dico, quello che scrivo, possa servire, non dico a far cambiare opinione, ma insomma, se non l'altra non considerarmi una minaccia. Però, ripeto, accetto anche che qualcuna non gradisca il mio nominarmi in questo modo. Mi definisco in questo modo proprio per la storia che ha questa parola. Però stiamo parlando di qualcosa di estremamente complesso, di molto sfaccettato, di molto variegato, perciò capisco benissimo che ci sono invece storie e pratiche che non accettano questa mia definizione. E ripeto, mi sta bene, ne capisco i motivi e lo apprezzo. Beh, certo, poi quando diventa un vero e proprio attacco frontale o il mandare in giro falsità e calugne, come purtroppo succede, no, lo accetto molto di meno, però anche questo, come dire, un po' ci sta nella comunicazione social, nell'attivismo politico. lo si accetta e, insomma, si va avanti. Poi spero sempre che poi i fatti parlino per me, insomma, meglio delle mie stesse parole. Gli uomini si stanno interessando a questi temi? Hai notato un aumento di interesse? Sì, certamente sì. Perché quando fai capire che al di là di qualunque schema ideologico che dovrebbe essere capito molto meglio, ma volendolo si può pure rifiutare un blocco, insomma, al di là di tutto questo, stiamo parlando di problemi personali molto seri, molto importanti, che raramente si riescono a superare con l'indifferenza o con l'ignoranza. Una volta che qualcuno te li ha presentati davanti, allora non è possibile, come dire, tirarsi indietro, diciamo, si è fatto questo primo passo, l'interesse c'è, poi certo, ognuno se lo declina un po' secondo la propria cultura, secondo i propri momenti, il proprio tempo, però la cosa che mi conforta è che nessuno riesce a rimanere davvero indifferente, perché una volta che ti sono dati degli strumenti, una volta che appunto apri un po' gli occhi su certe cose, una volta che ti rendi conto di quante cose nella tua vita ti sono capitate in virtù di queste forze, di questi poteri, di questi condizionamenti che non avevi riconosciuto, e allora gli uomini si interessano e come. Però certo, ecco, ancora è una cosa per certi versi un po' troppo casuale, se vogliamo dire così. Mi piacerebbe che queste cose fossero nelle scuole, molto più presenti in tutti i gradi di istruzione, dalle scuole obbligatorie, all'università, proprio perché questa presa di coscienza sia molto più diffusa e molto più facile, diciamo così, invece che lasciarla come è adesso ancora a occasioni un po' troppo sporadiche, diciamo così. Ci puoi parlare del Gentleman's Club? È un gruppo maschile che ho cominciato qualche anno fa, nel quale appunto ci si vede, ci si vedeva prima in solo uomini, appunto perché un certo tipo di separatismo era secondo me utile anche per noi, ci si doveva un po' guardare in faccia e dire forse abbiamo un problema di genere ed è stata un'esperienza molto utile perché ci si raccontava ciascuno le sue vite, le sue esperienze, le cose capitate nella giornata, nella vita, così, e si cercava di vedere appunto quali erano, parlandone tutti insieme, questi poteri e questi condizionamenti nascosti che qualche volta ci hanno evidentemente fatto male oppure non ci avevano fatto capire qualcosa di importante successo nella nostra vita. Poi il gruppo si è, boh, ci ha avuto la sua storia, è andato avanti quindi poi abbiamo fatto venire le nostre riunioni anche donne, ragazze, sostanzialmente chiunque potesse e volesse venire e la cosa è stata ancora più interessante e ancora più divertente perché poi arricchendosi di altre esperienze di altri interlocutori, interlocutrici la cosa si è molto arricchita. Certo, come tutti i gruppi volontari e spontanei c'è la sera che sei in tre e la sera che sei in venti ma insomma quello ci sta nella vita di tutti i gruppi. A volte si, non so, si parlava di un libro che uno aveva letto a volte invece ecco uno portava un'esperienza che aveva fatto, a volte si sceglieva un tema e tutti ci si documentava su quel tema e poi se ne parlava la prossima volta. Come fanno insomma gruppi volontari che chiacchierano di queste cose? È un'esperienza importantissima perché appunto è un tipo di scambio soprattutto tra uomini che ancora non si fa diffusamente. Al bar non si chiacchiera di questo, sulla panchina del parco non si chiacchiera di queste cose, è questo quello che manca. Allora se bisogna darsi un nome e vedersi in un certo posto una volta al mese per farlo, vabbè, facciamo così. La speranza è che poi più avanti queste cose invece diventino molto più chiacchiera comune. Per concludere la nostra conversazione, citando il titolo di un tuo libro, perché il femminismo serve anche agli uomini? soprattutto per fargli capire io credo tutta una serie di condizionamenti che per certi versi si sono autoimposti anche e che non vale assolutamente più la pena di mantenere. Forse non è mai valso la pena, ma vabbè, se stiamo a far processo a 3.500 anni lasciamo stare. Sicuramente adesso non vale più la pena. È il caso di uscire da questi condizionamenti, aprire un po' meglio gli occhi sul mondo che abbiamo intorno e capire che anche se certi tipi di violenza, certi tipi di oppressione non li fai volontariamente, te ne devi comunque assumere la responsabilità e farli finire. Grazie. Grazie a te.